Sicurezza, quattro ordini di allontanamento dall'Italia, cinque fogli di via obbligatori dal comune di Vicenza, due avvisi orali e il bilancio dell'ultimo controllo straordinario interforze coordinato dalla Questura. Obiettivi specifici per il contrasto allo spaccio di stupefacenti non solo i noti punti caldi del centro storico, ma anche alcuni edifici abbandonati segnalati dai cittadini. Una cinquantina di agenti impiegati, tra polizia locale, guardie di finanza e reparto prevenzione e crimine della Polizia di Stato, che hanno controllato minuziosamente alcuni immobili in via Torino, quartiere e ferrovieri e nell'area di cantiere ex Zambon. Un intervento mirato è stato inoltre effettuato dagli agenti della Polfer nella stazione ferroviaria. Complessivamente sono state 189 le persone identificate, 87 stranieri e 53 con precedenti penali. Disposti inoltre cinque posti di blocco dove sono stati controllati 62 veicoli e 9 esercizi commerciali. Un servizio di vigilanza preventiva apposita è stato inoltre effettuato in prossimità di alcuni edifici scolastici nelle ore di maggiore affluenza degli studenti.